Oggi voglio fare insieme a voi le lentiggini, ho visto un modo super veloce e facile per farle, usando una spugnetta. Io ho anche questo pennarello, quindi facciamo metà faccia con la spugna e metà con il pennarello, vediamo qual è il risultato migliore. Partiamo con la spugnetta, ok, allora, vediamo. Da questa parte l'ho fatta, ma mi sa che utilizzerò il pennarello, vediamo alla fine. Ok, questo è praticamente un fail, qui sembra che ho preso la terra dalle piante e me la sono lanciata direttamente in faccia, qua invece sembra che ci abbia una matassa di punti neri, quindi direi che continuerò ad utilizzare il classico metro della bomboletta, però ci abbiamo provato.